Benvenuti a Compila, quindi va! Lo lascio appena appena in sottofondo perché mi hanno detto che nelle live si sente, nel replay si sente se si ascolta dalla macchina, che ho detto, boh, chi è che si sente la cosa dalla macchina? Oh, il gatto steso sotto la tv. Ehi, tutto bene? Ehi, a un momento di sonno si è capottato. Come va? La settimana scorsa ho bigiato, ho saltato la live però dovevo preparare, tra l'altro non so, si hanno messo i filmati una sessione per il Tech Jobs Day. Il Tech Jobs Day è una conferenzina online dedicata al lavoro nell'ambito IT e ho fatto una sessione su Twitch, tra l'altro. Quindi, cioè parlando di Twitch, un po' della mia esperienza fino ad ora, del bello e del cattivo di questa piattaforma. E quindi, come dire, dovrebbero mettere il replay, anche perché volevo suggerirlo a qualcuno che mi ha detto che era interessato, ma non penso che li abbiano già messi. Però, di tutto un'occhiata, giusto perché non si sa mai, ma no, non vedo, non vedo i filmati. Vedo il mio, la mia sessione su Astro, che tra l'altro abbiamo visto anche qua. E c'è Sofia, qualcuno l'hanno messo, quello di Sofia Fugido, che vi consiglio, non vi consento, mancherebbe, di vedere Carriera come sviluppatore tra consulenti e aziende di prodotto. Che forse però è quello, l'aspettando, forse questa è stata fatta qualche giorno prima. Quindi, beh, le pubblicheranno, che ne so, non vedo, mi sembra che non ci siano ancora. Perché ero anche curioso di vedere un po' come era venuta questa sessione e quindi, e anche poi di condividere, di segnalarla, perché, come dire, boh, potrebbe essere interessante, anche se di filmati che parlano di streaming su Twitch, ce ne sono tanti e quindi quello non voleva essere un, ti spiego come si fa, perché c'è chi lo fa meglio, ma anche un, banalmente un, un semplice, mia esperienza. Quindi, visto che mi sono trovato bene, per il momento mi trovo bene. E quindi continuerò, continuerò a fare queste, queste live finché riesco. E poi, questa settimana, c'è stato il Delfi Day a Padova, che è il secondo appuntamento, il primo dopo la pandemia che è stato fatto, dove c'è stata una mattinata di seminari, dove si è parlato di Git, con, vabbè, una foto che è circolata ovunque. mia colpa, come dire, è circolata, perché durante la sessione di Git c'è una slide che è apparsa, con di fianco lo speaker, io ho fatto la, come dire, la mossa barbina di, come dire, fare la foto, poi dopo ve la farò vedere. Adesso appena cambio inquadratura, la faccio vedere. Si è parlato di Git, si è parlato di refactoring, con le tecniche di metaprogrammazione, quindi un po' i generics, un po' i virtual interface, un po' tutte quelle cose che sono particolari sempre di Delfi, ma non si è parlato solo di Delfi, perché è stato anche, come dire, presentato un tool che serve per il monitoring di servizi, che si chiama Kuma, da Antonello, Carlo Magno, che saluto, ormai guarda questa live indifferita, molto interessante, quindi, diciamo, tendenzialmente simile a Prometheus, di cui anche sul mio canale trovate già una doppia, ne ho parlato in un po', che ne ho parlato un po' dappertutto, quindi qualcosa che tiene, che recupera metriche dai servizi per sapere come stanno andando, ecco, questo è l'obiettivo, mentre Kuma è un monitor uptime, cioè qualcosa che vede se i servizi stanno effettivamente funzionando, quindi hanno queste due, questa duplice, questa valenza. stavo guardando qui, perché mi vedevo sul cellulare, mi sembra che la latenza si è migliorata dal punto di vista del tempo di ritardo, perché ho esportato tutta la configurazione di OBS, per poi reimportare in un'installazione pulita, però ho scoperto che quello che ho esportato non riesco più a importarlo, quindi fondamentalmente sono fregato in questo caso, perché... e quindi mi sono ridotto a fare tutto il canale, poche parole, ma in realtà poi, come dire, non tutti i mali vengono per nuocere, perché aveva bisogno di un pochino di, come dire, di sistemazioni, e per cui ci sta, perché doveva essere un po'... avevo installato un po' troppe cose, infatti adesso mi sembra molto più leggero sulla CPU, quantomeno, quindi mi sembra abbastanza tranquillo, tutto tranquillo, per cui nelle prossime live di Delphi magari si dovrebbe riuscire a vedere cose senza, l'ultima volta non si muoveva, perché praticamente teneva OBS, teneva tutta la CPU, anche la GPU, tra l'altro, perché l'encoding è fatto con la GPU, quindi tra la CPU e la GPU non avevo praticamente un processore da usare per fare il resto delle cose, quindi qui ho alleggerito un po', ho tolto un po' di cose animate, ho tolto un po' di... scusate... di plug-in che non uso più, e quindi tutto a posto per il momento, quindi... sembra che funzioni, tra l'altro mi sembra anche che vedo... il kilobyte tiene molto meno, perché ho abbassato anche un po' il bitrate, più che altro, perché non facendo gaming, non facendo cose di questo tipo, mi sembra sprecato tenere troppa banda, ho abbassato anche la risoluzione dello schermo, perché poi le live diventano molto voluminose, se non si legge bene, a volte il carattere, quindi insomma alla fine sto facendo un po' di esperimenti per migliorare anche la parte del carattere, infatti vedete che la mia webcam adesso non ha più l'effetto maschera, cioè il board trasparente di fianco, cerco un po' di entrare in un contesto minimal, così non abbiamo problemi e dovremmo essere a posto. L'argomento della serata è esplorare Bulma, è una cosa che mi ero ripromesso di fare, perché stavo guardando un po' i framework CSS alternativi a quello che uso di solito per le web application, ma perché è talmente standardizzato, è talmente familiare che ormai, poi non ci si prende la mano, ovviamente lo si usa dappertutto, però volendo anche occuparmi di qualche sito di contenuti, e quindi non solo web application, quindi non solo cose con pulsanti menu, ma anche qualcosa di più contenutistico, ecco potremmo dire, volevo sperimentare un po' qualche framework CSS alternativo al classico bootstrap, poiché ha la parte di tipografi, ma effettivamente è un pochino, come dire, è buono per le web application, ma non è così buono per altri tipi di utilizzi, o comunque diciamo che, in ogni caso, mi piacerebbe più qualcosa di più customizzabile. Grazie per il follow a Bumba Socks, questo Nick benvenuto o benvenuta, quindi non so se... Grazie molto per il follow, tutto bene, come va a te? Nel momento tutto bene, anche se è giovedì, domani è venerdì, quindi come dire, siamo... Oh, che bello la chat interattiva, che fa... ma quasi in tempo reale, perché dovete sapere, non so... chi è per la prima volta sul canale, che la settimana... Fino la settimana scorsa, avevo 20 secondi di... di... come dire, di... di delay, e quindi, quando uno mi diceva ciao, ben arrivato, aveva praticamente il ruolo di andare a letto, e non era proprio il massimo, però per abbassare la latenza, ho dovuto tenere un po' più basso i altri parametri, ma alla fine, ci scriviamo del codice, quindi non... non abbiamo cose animate, per cui non dovrebbe essere un calo qualitativo, così poi adesso vedremo, quindi... mi riguarderò dopo il VOD, vedrò un po' come si vede, e quindi... dicevo, volevo sprogarmi un po' di frame un CSS, in realtà l'avevo già visto tempo dietro, quando stavo scegliendo qualcosa per siti di contenuti, poi me lo sono fatto da solo, ma... effettivamente farsi un CSS da zero è un po' complicato, ho preso in esame Tailwind, famoso, Tailwind CSS, che però per me ha dei... come dire, ha dei difetti, da un certo punto di vista, perché... perché è un po' troppo... troppe classi, secondo me, per... già senza il pre-flight, che è una sorta di modalità che questo... questo plugin ha, e che... consente quantomeno di non resettare tutto al minimo, di non fare un reset totale del CSS, cioè praticamente di non entrare in quella situazione dove che voi scriviate un titolo, un paragrafo, il testo compare tutto uguale, perché ogni margine interno, esterno, ogni distanza, ogni cosa, viene in un certo senso resettata, in modo che poi la formatazione si applichi mettendo appunto le classi CSS, quindi gli stili. Questo è un... cioè, è una bella cosa da un certo punto di vista, però lasciarceli vuol dire interferire con i suoi stili, mettere... quindi col pre-flight, lasciare i default, vuol dire calpestarlo un po', toglierli, vuol dire che per ogni cosa, margini, e quant'altro, ogni spaziatura, ogni minima caratteristica stilistica va aggiunta agli elementi che scrivete. E secondo me il problema di Tailwind è che per avere una formatazione quantomeno normale troppe classi CSS, secondo me, perché ce ne vuole una per i margini, una per il padding, una per eventuali bordi, o più di una, perché magari una, come dire, sono le dimensioni del bordo, un altro può essere legato alle... dove va messo, solo sotto, solo sopra, lo stile, ognuno di queste, praticamente, come trasformare un... un CSS, Tailwind ti forza un pochino a trasformare il tuo CSS, non avere un CSS, ma avere un HTML con talmente tante classi che faccio prima scrivere il CSS, cioè mi viene... Alcune classi sono potenti, chiaramente, sono fatte bene in un certo senso, perché magari ti danno quelle trasparenze, quelle... soprattutto quelle sulla grid, ecco, mettendo una classe flex row, flex column, le cose ti vengono già ordinate con un certo criterio, però dover mettere una classe CSS per margine, padding, bordo, colori, colori di sfondo, eccetera, mi viene un tag che fondamentalmente è enorme, e... non lo so, inizia a essere poco leggibile, e se voglio riprodurre da un'altra parte, o trovo il modo di isolare in una classe quelle cose, comunque devo ripetere gli stessi attributi, le stesse classi CSS, e questo è un po' cioè potente, interessante, magari da un punto di vista, forse in un contesto dove quello che si sviluppa come applicazione o come sito è molto componentizzato, allora si riesce a fattorizzare molto bene l'HTML, e a quel punto, come dire, basta che ripeti il componente, ecco, per così dire, il componente ce ne metterai tanti, però una volta che gli hai dato un aspetto, però ad esempio mi è capitato in un sito di dover fare cose molto simili, ma abbastanza diverse da non poter essere componentizzate, con un div, cioè con neanche tanti elementi, però vedere continuamente quelle classi, non lo so, mi ha lasciato un po' interdetto, cioè preferirei vedere un altro approccio, e da quello che ho visto, Bulma è un po' una via di mezzo, cioè sia Bootstrap che Tailwind sono un po', come dire, full optional, nel senso che sono più orientati da un lato a farti un po' indicare qual è il widget che vuoi vedere, quindi la mia faccia in questo momento mi interdice queste cose, spero che questo è il carattere di programmazione, quindi io di solito cerco di dirlo come si, in maniera comprensibile anche a chi non comprende, però, cioè, a chi non è del mestiere, però, non è sempre, come dire, così facile, quindi, si fa come si può, parliamo di CSS che sono i cosiddetti fogli di stile, cioè, per chi fa delle pagine web, pagine internet, come decidere come le cose vanno visualizzate, ecco, quindi, siccome non ci si fa tutto da zero, ci si può, in certi casi, anche, questa cosa cercando di parare anche con poche percentuali di successo, vabbè, ci vuole pazienza, quello non, un po' di pazienza ci si riesce, comunque, sono abbastanza facili, più ricordarsi un po' tutte le classi, quello che c'è, nelle proprietà, più che altro, che con il CSS si possono customizzare, perché poi si entrano nell'ambito delle transizioni, delle animazioni, e quindi, dicevo, quindi, bootstrap molto componentizzato, nel senso che, ho il pulsante, gli dico, se è un pulsante per, conferma, per eliminazione, mi viene il pulsante, già formatato, rosso, se prendi controlli, input, per metter dentro dei dati, gli do le sue classi, li vedo già, con la loro formattazione, e quindi, dandogli un po' il tipo di controllo, un po' dei ruoli, no, vabbè, ma la parte web dev, no, più software dev, cerco di imparare, quindi, sei più sul back end, praticamente, quindi, qui l'abbiamo trattato, fino a poco, fino alla settimana scorsa, no, due settimane fa, stasera, volevo un po' cambiare, vedere qualcosa di diverso, rispetto alla solita, programmazione, però, nel canale mio, youtube, che è dove ricarico, tutte le live, no, il link funziona, meno male che il bot funziona, ci sono tutte le live precedenti, dove, usando delphi, che c'è anche in versione community, quindi, si può scaricare, e lo può usare anche un principiante, c'è un sito dedicato, si riescono a fare applicazioni visuali, per windows, per android, nel corso di varie live, abbiamo fatto spesso, dei giochini, delle applicazioni di utilità, ci siamo un po' divertiti, e quindi, magari, quello potrebbe, come dire, interessare a qualcuno, che vuole iniziare, perché il linguaggio, è un linguaggio abbastanza semplice, perché, fondamentalmente, è derivato dal Pascal, ma, per chi vuole programmare, vuole programmare, in un certo modo, ci sono tutti gli strumenti, che, cosa si può fare con delphi, si possono fare, delle applicazioni per windows, quindi, quelle classiche che vedi, tipo, che puoi scaricare, con la finestra, varie finestre, delle applicazioni cross platform, cioè, non solo per windows, ma anche per mac, per android, per ios, e anche per linux, dei servizi windows, delle console application, quindi, si può fare, più o meno, più o meno tutto, quindi, è molto, general purpose, ecco, diciamo, quindi, avevo anche l'idea, di fare, una serie di live, come, in stile corso delphi, qualcosa del genere, però, ci sto ancora, pensando, elaborando, magari lo tengo, per l'anno nuovo, e potrebbe essere un'idea, da portare avanti, quindi, fate proprio a tutorial, quindi, fare una live, come dire, più leggera, è una live più, no, non più pesante, però, più votata, al fare delle cose, effettivamente, però, esposta come tutorial, quindi, non, tipo, stasera, dando un'occhiata, così, a varie cose, e quindi, in un certo senso, sperimentando un po', ma, facendo delle cose, molto spiegate, col vantaggio, che, avendo la chat, uno può fare domande, si possono, fare le cose, anche insieme, l'if più o meno facile, di python, dipende, nel senso, che il linguaggio, è molto semplice, come, come lo è, di per sé python, perché, appunto, il pascal, si fa a scuola, quindi, anche, da questo punto di vista, hanno la stessa finalità, sono diversi, perché, Delphi è tipizzato, quindi, è un po' più rigido, e, quindi, è un po' più, diciamo, il controllo degli errori, è un po' più rigoroso, quindi, bisogna, fare le cose fatte bene, ma, questo vale, poi, per qualsiasi linguaggio, python è più un linguaggio dinamico, quindi, non c'è bisogno di creare, troppa sovrastruttura, per iniziare a scrivere, più o meno facile, dipende poi, dalle applicazioni che si vanno a fare, perché, i due linguaggi, si parlano anche molto bene, tra l'altro, io, mercoledì, della prossima settimana, ho un meetup, qui, in zona, dove abito io, che è Reggio Emilia, dove, parlerò, è un meetup di python, quindi, praticamente, lo user group, di, di Reggio Emilia, dedicato a python, dove andrò a parlare di python, però, per fare applicazioni, con le librerie, che ci sono in Delphi, perché, esiste una, una libreria, con dei componenti, o comunque, qualcosa da aggiungere a Delphi, per interfacciarlo con python, in modo che, da python, si possono usare cose di Delphi, e da Delphi, si possono usare cose di python, quindi, diciamo, che la differenza principale, è che python, di per sé, è un linguaggio di programmazione, Delphi, è sia un linguaggio di programmazione, ma è anche un ambiente, per lo sviluppo rapido, tra l'altro, di applicazioni, cioè, è un ambiente, che ti consente di, con drag and drop, con i click, cioè, in maniera, visuale, di costruirti la tua applicazione, allinearti i controlli, mettere giù gli eventi, dare il nome alle proprietà, mettere i testi, mettere, scegliere i colori, quindi, diciamo, che è più un prodotto, che non un linguaggio, anche se poi, il linguaggio, che una volta, era chiamato, linguaggio Delphi, poi il linguaggio Pascal, l'oggetto Pascal, gli cambiano un po' le, secondo me, sono, si equivalgono, è chiaro che, magari, su python, trovi, molta più documentazione, ma anche su Delphi, se ne trova parecchia, perché una documentazione, anche, datata, in realtà, è ancora buona, perché, il prodotto, diciamo, è stato aggiornato nel tempo, è appena riuscito, tra l'altro, una nuova versione, quindi, fresca fresca, un po' di python di base, lo so, mi consiglio di parlare python o Delphi, e creare applicazioni visuali, beh, dai un'occhiata a entrambi, nel senso che, python, secondo me, ad oggi, è abbastanza imprescindibile, dal punto di vista, di tutte le cose che, chiaramente, si possono fare, perché diventa molto adatto, a, come dire, la parte legata, all'elaborazione dei dati, gestione dei dati, sulle applicazioni visuali, ci sono tante librerie, però, ad esempio, a me non ne piace nemmeno una, e quindi, il fatto che, da Delphi, io possa fare interfaccia utente, da usare con python, è la cosa, mi piace particolarmente, perché così, come dire, vantaggi di uno, e svantaggi, vantaggi di uno, e svantaggi dell'altro, li posso unire, applicazioni visuali, ci sono tante librerie, alcune, secondo me, sono, un po' complesse, almeno, per i miei gusti, e altre, invece, fanno delle interfacce, un po' vecchie, mentre, se dai un'occhiata, ad alcune delle live, che sono state fatte, tipo, alcune delle prime, o, sul canale YouTube, vedi più o meno, quello che si può, che si può fare, poi c'è anche la questione mobile, da non, anche python, delle librerie per il mobile, però, diciamo che, c'è un sito interessante, che si chiama, adesso lo scrivo qua, perché non vorrei sbagliarlo, si chiama python.gui.org, direi, adesso mi ho incollo così, che, è gestito da, appunto, da quelli che sviluppano Delphi, però, è interessante, l'hanno creato, con l'idea di fare un sito, legato allo sviluppo di, interfaccia, appunto, con python, dove dentro, si parla di, le librerie Delphi, perché sono, là in alto, sono belle visibili, però, c'è anche, tutta una serie di post, di cose, che riguardano, altre librerie, comparazioni, quindi, nell'ottica di usare python, e di metterci, un'interfaccia grafica, lì c'è un po' di materiale, si possono usare, le stesse librerie, che si usano in Delphi, che sono, secondo me, ottime, si può anche fare, la progettazione, dell'interfaccia, in defito, all'altro, adesso, che mi viene in mente, una live, l'abbiamo fatta, su questo argomento, andarla a pescare, sarà, sarà un bel problema, ma, vediamo se il motore di ricerca, ci aiuta, poi torniamo in topic, perché, le miei parti creiamo, oh, meno Google indecizia, come si deve, qui c'è proprio, vi fa vedere, un link, questo è il mio, sitarello, è un indirizzo, che punta direttamente, al mio sito, a una pagina, dedicata, a una live, che avevo fatto, dove usavo, le librerie di Delphi, per, fare, come dire, interfacce, grafiche, dentro Python, quindi, qui c'è proprio, la, e c'è anche, l'esempio scaricabile, e c'è, direttamente, la, 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 il video, il replay, direttamente, della, della live, che tra l'altro, è una delle più, guardate, e quindi, evidentemente, l'argomento, Python e GU interessa, quindi, da quel lato, ci sta, comunque, però, io, sono sempre, per non focalizzarmi mai, su un unico linguaggio, quindi, anche, dotnet, anche un po' di javascript, un po' di librerie, andrebbero conosciute, perché, per ogni ambito, c'è sempre, quello più, più interessante, da, è più, più produttivo, è più adatto, per fare, risolvere un certo problema, ecco, da un certo punto di vista, Delphi, secondo me, è molto general purpose, cioè, è proprio, il coltellino svizzero, nel senso che, è adatto, un po' a tutti gli usi, poi, ci sono, altri framework, che magari, possono essere, più adatti, se devo, elaborare dei big data, se devo manipolare dei dati, anche un linguaggio di script, dove possono fare le cose live, mentre, sto sviluppando, magari, può essere una cosa, più, più interessante, e, dicevo, quindi, stasera, do un'occhiata a Bulma, introducendo Bulma, la cosa carina, che ho, che mi ha, che mi ha incuriosito, diciamo, di questo, prego, no, siamo qui apposta, come si dice, quindi, così, mi faccio anche un review, mi ricordo, anche qualche live, che avevo, che avevo, fatto in passato, perché ce ne sono, già un pochino, quindi, diventano un po' tante, Bulma, è un po' una via di mezzo, tra boost, la petal wind, perché, diciamo, non va a stilizzare, gli elementi HTML, cioè, se io scrivo HTML, e basta, importando Bulma, non dovrei vedere, grosse differenze, da un certo punto di vista, però, se applico delle classi, mi viene data, una certa formattazione, si possono fare, grafico per le app, in Python, HTML, penso di sì, quelle, forse, sono più comuni, se usi JavaScript, perché hai, magari, node, hai dei framework, dove, le tecnologie, che usi per il web, le puoi, perché JavaScript, è integrato, nelle pagine web, le puoi usare, per incapsularle, dentro un'app, e quindi farci anche un'app, in Python, puoi fare un'app, mobile, puoi fare in Delphi, però, HTML, CSS, devi codificare qualcosa, che renderizza, HTML, CSS, perché, almeno per il momento, Python, dentro un browser, non gira, anche se, so che c'era, in progetto, un Python script, comunque, l'idea di portare, il Python, essere eseguibili, anche all'interno, del browser, che è una cosa interessante, da un certo punto di vista, cioè, oltre a JavaScript, avere anche un altro linguaggio, da poter utilizzare, cioè, c'era qualcosa di embrionale, però, ovviamente, non è incorporato, quindi, te lo devi scaricare, invece, l'idea è proprio, scarico il browser, e mi trovo già, un interprete pronto all'uso, è vero che dopo, bisogna vedere la versione, bisogna vedere cosa supporta, bisogna tenersi, tutti e due i motori caricati, cioè, diventa, diventa, già tengono, abbastanza RAM, il browser, perché sono, io ho aumentato la RAM, adesso, Chrome se ne prende di più, e quindi, ho detto, va bene, cioè, l'ho aumentato apposta, se ti espandi, se aumento lo spazio, non si espande, finisce che alla fine, poi non ci sto più dentro, e quindi, però, vabbè, come dire, da questo punto di vista, quindi, Bulma, dicevo, applichiamo degli stili, quindi, se metto un controllo input, una casella, la vedo normale, se metto class input, cioè, gli do anche una classe, gli applico una classe di Bulma, lo vedo formatato, quindi, il concetto è, per avere la formatazione, devo applicare delle classi, però, non ho tutta quella, pletola di classi, che ho in Tailwind, dove ogni classe, è un attributo CSS, fondamentalmente, ma, sono, classi, che ti danno, una formatazione, di base, quindi, che gli danno, già un aspetto gradevole, però, senza esagerare, quindi, senza dare, un certo sfondo, magari, certe caratteristiche, che sono, più riconducibili, a un tema, più che un aspetto, particolare, della grafica, in modo che, tramite, il meccanismo, dei fogli di stile, cioè, ovviamente, ridefinendo gli stili, in un proprio foglio, si possa usare, questo framework, come base, per poi, estenderlo, quindi, andare a mettere, delle classi, per personalizzare, ciò che il framework, non va a toccare, poi, ci sono, in realtà, già, delle classi, CSS, eccetera, tipo, Satches, Danger Warning, che fanno, già dei colori, con un significato, cioè, quelle, le si possono utilizzare, però, uno può adottare, anche le proprie, lasciando a Bulma, il compito di, dare già, un aspetto, più gradevole, e con un certo standard, annetto delle colorazioni, che renda, l'interfaccia, comunque, già, con un certo, con un certo formato, oltre a esserci presenti, anche degli stili, per il layout, per i titoli, quindi, ad esempio, fate un H1, non ha niente di particolare, dovete mettergli, un class title, e a quel punto, lo vedete, formatato, secondo, quello che sono, le basi, di questo Bulma, la cosa, che mi faceva, un po' da deterrente, nell'approfondirlo, è che effettivamente, al netto di, ora, guardo questo video, e quindi, ho fatto male, suggerire il video, perché così, abbandona la live, per andare a vedere il video, tranquillo, poi dopo, mi dici, lasciami un commento, per dire se, anche sotto al video, così, qualcuno, magari, interviene, per dire se, è tutto chiaro, quindi, era un po' titubante, riguardo a Bulma, perché effettivamente, non aggiunge, tanta formattazione, quindi, molto lasciato, nelle mani, di, di chi deve, un po' formattare, stanotte, tryhard, no, andate, andate nanna ragazzi, che se no, tryhard, questo termine, l'ho imparato, guardando uno, che gioca, perché, il diavolo vuol dire, poi, mi mi mette tryhard, e quindi, mai, sono un anziano, ma comunque, no, sono un anziano, no, però, non sono, un meno giovane, per cui, comunque, prego, buona programmazione, come dire, buona, buona avventura, come si, e, quindi, dicevamo, no, e quindi, Bulma mette, poca formattazione, e quindi, come dire, molto, come dire, cioè, devi mettere, lo sviluppatore che fa il sito web, anche se, come dire, raggiunge l'immagine, raggiunge degli sfondi, personalizzare un po' il tema, non dovrebbe essere questa grossa fatica, fermo restando, che a volte, forse, non so se convenga addirittura, più, lasciare, come dire, quasi il formato di default, perché, questa ricerca di siti, poi, particolarmente, pieni, come una volta, si faceva in flash, o si facevano questo tipo di architetture, con effetti speciali, ad oggi, cioè, la gente vuole, un sito veloce, che compaia, che si lega bene, magari, da mobile, in modo che, se uno deve fruirlo, effettivamente, per accedere a delle feature, deve accedere senza fronzoli, perché, sì, l'occhio è gradevole, ovviamente, essere gradevole alla vista, fa bene all'occhio, ma poi, quando inizio a utilizzarlo, quindi, io, adesso, chiudo il mio sito, il mio, la roba che, non c'entra nulla, ok, notifiche, non capisco cosa sono, e poi, andavo, a fare qualche prova, magari, su, su un browser, per vedere, come funziona, questo simpaticone, di, di Bulma, che non dovrebbe essere, un nome a caso, mi viene in mente, mi viene in mente, cos'è Dragon Ball, che non sono esperto, di, di manga, e quindi, allora, passo a screen più cam, perché abbiamo il sito official, che è questo qui, c'è pure, un download, ma non, come dire, non, non vado a scaricare, adesso ci penso un attimo, riusciamo, eventualmente, importarlo anche, da una cdn, cioè già dal sito, in, c'è per la verità, anche un libercolo, specifico, dedicato a Bulma, però, costicchia, ed è abbastanza, lo aiuto, è un tutto sbadiglio, è abbastanza, è abbastanza costoso, fatto da questo, Jeremy Thomas, che dovrebbe essere anche il, se non ho capito bene, il creatore, si, ggtms, si è lui, il creatore di questo framework, quindi, io parto proprio da, da boomerang, da boomerang, e mi vado a, a seguire passo per passo, la documentazione, cercando di capirci qualcosa, c'è già il mio viso studio code, che è pronto a partire, questo non mi serve, questa roba non mi serve, quindi, mi faccio, magari una cartella, una cartella in temp, con, chiamiamolo, Bulma, Primer, potremmo anche, fare un'applicazione node, ma, no, quello stesso, dai, vediamo se me l'apre, direttamente, io ho qui un profilo, impostato per il web, tra l'altro, non so se ci sono delle estensioni, ma sicuramente ci saranno, e magari le ho già installate, no, ne ho installate una per Tailwind, vediamo se ci sono estensioni, anche, beh, official, non ne vedo, però questo ha talmente tanti, come dire, talmente tanti, ah, sono snippet, ok, sono tutti, ah no, official, mi viene da dire, quindi probabilmente, non c'è, aiuto, mi viene uno stranuto, ma non, non c'è tutto questo supporto, da questo punto di vista, però, diciamo, se i feedback, mi sembrano molto gettonati, magari ne faccio senza, perché, niente, dal punto di vista, dei frame, mi sembra un po' limitati, bulmprimer, bulmprimer, ho questa cartella, mi faccio un nuovo file, lo chiamo, index.html, mi faccio un bel file html, gli do, html5, ok, questo va bene, bulmprimer, bulmprimer, oppure low world, tanto per fare, forse non si legge, si si legge, anche perché lo leggo dal cellulare, quindi, si deve leggere per forza anche, ok, quindi, a questo punto, per poter utilizzare, ho trovato due tutorial, poi dopo andrò a vedere, qual è magari, quello un po' più, un po' più caruccio, questo è grande così, o no, getting started, responsiveness and colors, questo va abbastanza, learn bulm, absolute beginners, perché c'è anche la versione expert, oppure no, finisce qua, ah ma non mi è entrato nella sezione, introduction, overview, la storia, quindi nasce il 2016, meet license, current version 0.7.1, siamo sicuri? no, qui c'è la 0.9.4, questa guida è già, è già troppo vecchiotta, via, andiamo sul getting started, facciamo prima, allora, io lo importo direttamente, non così, ma, con l'html, rtl, a right to left, ok, no, siamo, abbiamo i caratteri, aspetta, facciamo prima questa cosa, hello, bulma, ok, lancio il mio live server, che è un serverino che mi tengo qui, per fare poi tutte le prove, hello bulma, direi che lo vediamo, quindi, il server funziona, il flusso sta flussando, chiamiamolo anche questo hello bulma, e quindi, andiamo a vedere un attimo, rel style sheet, la timeline, poi non mi interessa più di tanto, andiamo a tenere per forza, non ho mai, sta lì, e sta qui, così, oh, così vediamo, quindi, importo questo, e già, e già vediamo, c'è un cambiamento, abbastanza, rilevante, e, se non l'ingrandissi, questo sarebbe il risultato, quindi, molto piccolo, perché, appunto, credo che lui, in questo momento, non stia dando, sottotitolo, non stia dando, in un certo senso, bla bla, anzi, lorem, voilà, così vediamo la differenza, è tutto piatto, anche lui, non, non, formata nulla, da questo punto di vista, e quindi, un po', si comporta come, come tailwind, da questo punto di vista, cioè, nel momento in cui, entra in azione, fa un reset, e a quel punto, gioca lui, cioè, non, però, ecco, in tailwind, quindi, cosa dovremmo fare, dovremmo andare qui, e dirgli, class, margine top, margine bottom, padding, dobbiamo iniziare a fare una sfidza di, classic ss, in bulma, se non mi ricordo male, ci dovrebbe essere title, e, sub title, qualcosa del genere, si, e già, vedi che comunque, già ha un margine, già ha una formatazione, che è diversa, rispetto a prima, quindi, già becca bene, mi becca bene, come si può dire, e, quindi, ok, però vado per gradi, quindi, 094, l'ultima versione, HTML5, initial scale, 1.0, va bene, qui c'è uno starter template, che potremmo anche utilizzare, quasi qua, c'è un altro per questa sezione, ok, così abbiamo qualcosa da cui partire, però, ecco già, mi pare che, in ogni caso, sia abbastanza, funzionante, ok, adesso si è spostato qui sotto, quindi, un pochino di formatazione, già, già ce l'ha, e, ok, quindi, subtitle, container, vedete che tutti i d, se tolgo queste classi, praticamente, vediamo tutto piatto, senza margini, senza, tutte le stesse dimensioni, quindi, sono queste classi, che danno già uno stile, e preimpostano anche già dei bordi, preimpostano già delle, come dire, un certo ordine di visualizzazione, quello che manca, magari una colorazione, o uno sfondo, dettagli, o comunque, in un certo senso, i ricci, per così dire, come si dice, dalla mia parte, fare i ricci, questo magari, un H2, ci potrebbe stare, ok, quindi, vabbè, non è variato, appunto, perché, io ho variato, dei tag, ma, Bulma non stilizza i tag, ovvero, se avete visto, se metto un H1, che normalmente il titolo, un H2, un paragrafo, vengono mostrati tutti uguali, quindi, però appena gli do, un ruolo, titolo, sottotitolo, assume già, uno stile, congruo, con la classe che ho messo, senza dover andare a specificare, però, bordi, eccetera, quindi, importando un mio foglio di stile, potrei dire, che il title, però, è di colore blu, oppure, cioè, potrei andare a variare, solo le piccole cose, che Bulma non mi va a cambiare, e a quel punto, sarei abbastanza, come dire, tranquillo, però, volevo seguire, un attimo, Bulma start, un package, con già le dipendenze, check it out, lo controllerò dopo, per il momento, mi accontento di questo, quindi, è un framework CSS, quindi, il risultato, della, della loro build, di chi gestisce Bulma, è un file CSS, fondamentalmente, infatti, ho l'importato direttamente, Bulma, ha solo, CSS Classes, quindi, il codice HTML, che si scrive, non ha, impatto, sullo stile della pagina, e direi che l'abbiamo visto, non stilizza, le classi, in maniera diversa, ma fa reset di tutto, quindi, quindi, è il motivo per cui esiste, ad esempio, una classe input, perché, se io scrivo, input type text, compare come una casella, normale, non stilizzata, adesso ci provo, input, ok, type, text, text, faccio così, se vado a vedere, che cosa mi ha prodotto, c'è, una casella di testo, ha un suo stile, ma direi che è quello del browser, fondamentalmente, se invece gli dico, class input, ecco che qui, me lo aggiorna, già tiene, tutta la, probabilmente, è fatto per, stare dentro un contenitore, per allinearsi alla label, quindi, però, già gli applica, un, un bordo più grosso, un carattere, congruente, quindi, già siamo, si vede che è successo qualcosa, quindi, quindi, se non, non metto classi, non ottengo, formattazione, questo, da un lato, è, può essere vantaggioso, perché, se voglio, customizzare completamente tutto, devo, non devo trovarmi a resettare, cose che, che, che Bulba mi va a resettare, cioè, più che resettare, sostituire con uno stile, quindi, quindi, generic text, twice, Bulba, only styles, generic text, directly twice, quindi, generic.sus, for your page, content class, per ogni, content class, per ogni textual content, like, with you big, what you see, is what you get, when you get content, whatever HTML is unavailable, allora, quando non puoi utilizzare, classic vuoi, o quando vuoi, usare direttamente, i tag HTML, usa content come un container, può gestire, ogni tag HTML, quindi, può essere usato, non capisco, perché, metterlo, o non metterlo, fa differenza, questo mi sfugge, quindi, qui ad esempio, non l'ha messo, ah, ho capito, adesso ho capito, ho capito, cosa intende, che se io copio, tutta sta roba, ok, tolgo le classi, quindi, di fatto, perderei la formattazione, se ho capito bene, cosa dice, ma adesso, perché quel problema, di questo reset, abbastanza forte, che resetta, tutti gli stili, togliamo, anche questa, ci metto, qua in mezzo, una riga, orizzontale, vai, quindi, dovremmo vedere, esatto, questo è quello, stilizzato, questo è quello, non stilizzato, dovrebbero essere, tutti diversi, però il carattere, è uguale dappertutto, non hanno margini, non hanno questa, spaziatura dall'alto, non sono posizionati così, è tutto non formatato, se ho ben capito, quello che devo fare io, siccome, i tag, non sono formatati, o metto qui, title, e quindi inizio a dargli, le classi, per formattarli, oppure, se scrivo, qui, content, lui, mi ripristina, esatto, la formattazione, standard, quanto meno, su quella parte, di contenuto, quindi, lui resetta tutto, ogni cosa, appare uguale, se gli metto le classi, la stilizzo, se lo metto in un content, anche se non metto le classi, viene stilizzato, con un, col default, del, questo è interessante, quindi, in questo modo, se devo visualizzare qualcosa, non sono costretto, e la voglio formatare, e se visualizzo un titolo, un sottotitolo, voglio che si vedano bene, non sono costretto, a far scrivere a qualcuno, l'HTML, con le classi, di Bulma, ma, gli posso lasciare scrivere, l'HTML standard, che mettendolo in un content, in un qualcosa, che ha quell'attributo content, viene mostrato, come dovrebbe essere, quindi, non è proprio uguale a questo, cioè, non è privo di stili, ha gli stili di default, perché, se voglio mettere gli stili, come erano prima, dovrei, aggiungere, le sue relative classi, ho letto due o tre volte, questa cosa, ma, eh, sì, anche qui fa un mix, perché, in realtà, non siamo all'interno del, con content, il subtitle, sta mescolando un po', i vari stili, quindi, dovrei, se uso il content, non posso andare a utilizzare, il subtitle, è chiaro che, se poi voglio che questo abbia, un default, tipo un font, diverso da questo, da quello di Bulma, dovrei andare a dire, content, dovrei stilizzarlo, con un foglio di stile, però, abbastanza, interessante, tutto sommato, ho capito, qual è, l'uso di questo content, perché, non mi, non mi appariva, subito, corretto, invece, adesso, mi appare corretto, sì, analogamente, le liste, perché anche le liste, perdono tutti gli stili, eccetera, quindi, ok, molto, molto, e qui, c'è, il file, sì, chiaramente, mi installo node, mi installo tutte le cose, mi consente, di personalizzare, la mia, la mia, i miei stili di base, della pagina, madonna, sembra che non abbia dormito, stanotte, adesso, vado a pigliare un attimo l'acqua, non cambio neanche schermata, anzi, la cambio, così si può vedere che c'è, c'è la mia videata, torno subito, sto facendo debugging, l'acqua ci vuole, ci vuole assolutamente, ok, sono torneato, e qui iniziano gli stili, ok, per avere i cosiddetti modifiers, che vanno a dare uno stile, dovevo bere, tra l'altro, ho anche l'effetto sonoro, per la bevuta che, che stava facendo lei, io, mi permettevo di bere, un goccettino di acqua minerale, bravo, bravo, continui, continui, porti subito, 25 bottiglie d'acqua minerale, di quella marca, era la terribile acqua, perché? la più gasata del mondo. Beva, 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 bene, dicevamo, partiamo con un semplice pulsante quindi anche per il button varrà un po' la stessa cosa ovvero se io qui mi crea un'altra section allora facciamo divide e timpera come diceva Giulio Cesano non mi ricordo chi era ma era qualcuno beva beva allora andiamo di section e mettiamo anzi facciamo un form e ci mettiamo un button click oppure premi qui premi qui e andiamo a vedere come viene renderizzato direi che non ha nulla di diverso dal un po' brutto però questa allora aspetta eh via mettiamolo qui in alto facciamo così ok ci abbiamo il nostro pulsante che tenta di fare un button type button così non va a ok quindi il pulsante ce l'abbiamo non è stilizzato che lui dice se lo vuoi stilizzare devi andare a mettere la classe button quindi class button è già compare diverso prima così poi dopo così quindi è già più in linea con con lo stile del resto quindi senza classe si vede così con le classi si vede in questo modo ed è corretto ok quindi lì dice aggiungendo is primary si può modificare il colore quindi is primary è vero diventa con il colore tra l'altro il colore classico di di bulma che non è che sia proprio bellissimo questo violettino per applicazioni però quindi modifier ok abbiamo tutti i colori quindi primary is link is info quindi se io qui scrivo questo otteniamo questo se metto info diventa l'altro blu un po' più chiaro abbiamo i modificatori legati al messaggio da veicolare con questo pulsante quindi se un pulsante che magari vi elimina che ne so un elemento dal database dovrà essere rosso perché c'è il rischio di fare dei danni se non è tale quindi success warning ok li fa di tutti i colori è possibile mettere anche il size quindi is small is medium is large ecco qui c'è meno customizzazione dal punto di vista del non uso un attributo che specifica esattamente la dimensione dal punto di vista della misura come avviene ad esempio con tailwind però abbiamo una taglia quindi piccolo, medio e grande se non ci piace quello che mette bulma probabilmente noi possiamo comunque acquisire tutto quello stile e andare a cambiare quello che non ci piace sfruttando il fatto che sono fogli di stile a cascata quindi quello che definiamo dopo sovrascrive quello che viene prima quindi come dire chi ha fatto bulma ha intenzionalmente creato qualcosa che faccia da foundation a uno stile che poi è diverso cioè in realtà poi nulla vieta di usare bulma senza nient'altro però rimane come dire un po' molto minimal molto pulito andando ad aggiungere delle cose con un proprio foglio di stile si va a customizzare però non c'è nulla che provenga da bulma che ci forzi la mano in questo senso ecco da questo punto di vista is medium immagino che sarà probabilmente il default ma adesso lo vediamo non si direbbe prima era così potrebbe anche essere il default no is medium è più piccolo è leggermente più piccolo quello di default uè ciao fewbit ben arrivato è un po' che non è un po' che non vedo sul canale allora intanto vado faccio gli onori perché ci sta anche se l'ultima volta mi sembra che ti hai dato il mixaggio perché c'era c'era stata l'emoticon bello l'emoticon del fewbit super griffato come si può dire stasera come vedo niente delfi quindi anche se è appena uscita la nuova versione ho già fatto una live precedente ho fatto il podcast ho fatto basta basta parlare di c'è stata una conferenza basta parlare di delfi per per questa volta almeno per un qualche giorno stiamo guardando qualche framework fogli di stile per formattare le pagine web e quindi c'era questo bulma quindi un po' che effettivamente non vedo il tuo canale nel non mi ricordo che ne pensi di Lazarus è un progetto interessante so che conosco anche chi ci ha fatto se si avevo capito dei progetti anche in produzione secondo me diciamo io non lo considero come come delfi perché pur essendo basato su free pascal compiler quindi open source a tutte le piattaforme cioè e cross platform a tutte queste belle qualità a volte è un po' più ostico cioè senz'altro è un ambiente interessante perché essendo fatto alla delfi chiaramente ci sono ma come mai hai l'iconcina della torta bella la torta che stavo dicendo sì è molto simile nel concetto e nel funzionamento quindi come dire un ambiente cross platform che faccia applicazioni in quel modo è più che raro quindi mentre per delfi devi usare per forza windows però delfi è un po' più polished diciamo un po' più ripulito un po' più magari da un certo punto di vista alcune limitazioni però penso che funzioni meglio con tutti i suoi difetti rispetto rispetto a lazarus per dire qualche live fa quando avevamo provato il castle game engine quello ho incontrato in conferenza al suo creatore un pazzo scatenato un po' un pazzo però no ragazzo giovane ma si vede che ha fatto un game engine quindi che l'ha leggermente debilitato no è simpaticissimo personaggio particolare gli ho scambiato qualche parola perché sa che ho fatto una live mi chiedeva appunto com'era dicevo si può usare delfi e anche il free pascal compiler come compilatore fpc però compilatore fpc non ce la fa più cioè delfi in applicazione te la compila per windows te la compila in un microsecondo cioè diventa talmente veloce infatti avevo switchato poi su quel tool dell'engine siccome potevi scegliere tutti e due l'avevo messo su delfi perché inizialmente non potevo utilizzarlo perché mi prendeva di default un compilatore che era quello della beta di delfi che però non era compatibile e quindi non riuscivo a usare delfi anche pur avendo delfi installato e quindi avevo usato per un po' fpc secondo me allo stato attuale odierno è utilizzabile cioè si può utilizzare e fare le sue cose io quando l'ho provato non mi ci sono trovato dal punto di vista non perché non so come funziona ma perché ci sono alcune cose che mi mancano e che sono in delfi che lì non ci sono che comunque si sentono in termini di componentistica tutta la parte di accesso ai dati tutta la parte di cioè lì ci sono delle alternative open source però come dire nella scatola fuori dalla scatola ha defici secondo me ha delle caratteristiche non so se c'è in giro una qualche comparazione che poi andrebbe tenuta aggiornata però è un progetto open source viene seguito però anche sui rilasci non sono così cioè bisogna più seguire il compilatore che non l'ambiente l'ambiente rimane un po' quello che è e poi da questa cosa poi ho smesso di seguirlo ma so che non erano più uscite tante tante altre versioni quindi non penso sia cambiato dovrei tornare a buttarci un occhio magari giusto per capire se per caso qualcuno mi chiede qualcosa qual è lo stato dell'arte di quel di quel tool che comunque è un'ottima alternativa da questo punto di vista però i defici fermano la versione 1 la versione 1 è 16 bit cioè quindi scarica la community scarichi i defici community vai sul sito un sito ufficiale metto il link così c'è l'edizione community per hobbyst eccetera di solito è che già è più interessante che ci sono già la parte linux si la parte beh c'è anche quella anzi no scusa quella in realtà forse solo nelle professional però c'è android c'è ios c'è mac se uno vuole se uno c'è dispositivo ovviamente però ad esempio la parte windows più android l'abbiamo usata spesso nelle live proprio per per creare quelle applicazioncine che poi mettiamo le testiamo in windows vediamo che funzionano e poi le andiamo a mettere su android e vediamo che è uguale che che comunque non è una cosa irrilevante da un certo punto di vista ma è una cosa abbastanza interessante che non ci sia da fare un progetto una shell per ogni piattaforma ma quando vado a fare la build scelgo dove voglio fare la build e vado a fare la build direttamente su quella piattaforma quindi dovere dovere anzi quando scaricate mi interessano anche i feedback perché stiamo cercando un po' di c'è stata la conferenza questa settimana martedì a Padova del feed day c'erano 90 persone è anche gratuita quindi una di queste volte magari fai un giro tanto anche per il prossimo anno si stanno valutando un po' di cose interessanti per la conferenza soprattutto legate al lavoro cioè c'era si parlava l'altro giorno l'idea era quella di provare a vedere si trova su youtube no perché era in presenza quindi però su youtube cosa si può trovare di quello che è stato la conferenza in opera che è stata fatta in presenza è stata ripresa quella che è stata fatta a Roma però al momento non ho visto uscire nulla di particolare quindi direi che come dire c'è ancora un po' da aspettare ma ci sta poi perché devo passare al montaggio e c'è solo un c'è solo un po' di filmato l'avevano pubblicato quello quello della adesso controllo sta a vedere l'ho messo tutto online già un'altra volta è successa questa cosa che mentre ero c'è beat time enjoy real mafia che bella roba beh ieri c'è stato un simpatico filmato con Marco Cantù project manager di Delphi se questo podcast si chiama cloud champions diciamo è partito con l'audio di cloud champions dove Marco Cantù spiegava appunto come supportare il cloud da Delphi vedo che ci sono un po' di commenti qualcuno ha lasciato ci metto il mio like anch'io che non ci sta male c'è c'è questa live di Cantù adesso mi copio il dove sono ben intervistato su come utilizzare Delphi su cloud in realtà io cercavo bit software e se sono fortunato ci arrivo questo è il canale però non sono i video eccolo qua l'ultimo video aiuto c'è l'audio un po' un po' sparato faccio vedere da da capo magari sperando che questo è il video della conferenza a Roma scriveva su microcorpodarsi infomedia e quindi quel mitico tutti i presenti alla conferenza di Roma c'è un po' di gente non è proprio abbandonato insomma insomma qui ci sono io di spalle sono comparso anche un po' di volte ma effettivamente c'avevo tre sessioni da fare una di queste almeno doveva apparire insomma buon rei che sono ecco questo è creatore di caster game che ci sono ancora io ma fondamentalmente è voglia di stare insieme per migliorarsi questo è un po' filmato ricordo eccomi qua questo è quello di caster game anche qui si è visto un paio di tuli interessanti filmati dovrebbero arrivare forse con un po' di con un po' di pazienza perché giustamente si è mangiato ovviamente grazie di dio come al solito e cos'è la pappatoia non manca mai ecco da questo punto di vista e quindi questo forse non l'avete visto ma è un filmato che ho fatto io a mo' di meme cioè un meme che circola e quindi faccio vedere anche questo poi lo metto anche sui vabbè questo è spot che non c'entra niente vabbè questo l'ho fatto in un momento di in un'autata perché non sapevo cosa fare quindi mi sono divertito a rifare il meme che si vede in giro con varie tecnologie trattato non l'ho condiviso giusto per dare un'idea sul mio account sul mio canale le mie live hanno una media di vabbè ho 104 dai 111 visualizzazioni 198 questo è arrivato a 859 il video meno impegnativo tra l'altro era al 700 stamattina quindi non so come come la gente ci vede che piace questo per dire che ci si impegna magari a fare delle live impegnative ma alla fine poi quello che piace sono i meme le cose che fanno ridere quindi è stato abbastanza virale da questo punto di vista quindi per cui ovviamente ironico ma vabbè ma torniamo a Bulma quindi che non mi ricordo cosa stanno facendo ma stavamo stilizzando i pulsanti quindi ci sono i modifier quindi se io metto is small is medium andiamo a cambiare la dimensione ok c'è sempre un reload questo è molto piccolo il mio video più visto è di calmero ah però questa cosa l'ho fatta anche un po' come esperimento perché volevo capire un attimo le dinamiche del web intanto mi tenta l'idea di buttare in una programmazione beh diciamo che a ricominciare da stagista intendi lavorativamente parlando beh comunque l'esperienza gli sviluppatori mancano sempre l'esperienza pregressa conta l'esperienza pregressa in delfi da parte di chi ha bisogno di sviluppatori delfi che sono pochi conta ancora di più quindi poi se fai i giochi su 64 secondo me puoi tranquillamente sviluppare in delfi diciamo che ci sono un po' di cose che sono cambiate nella programmazione nel senso che poi si possono usare ma anche non usare quindi da quel punto di vista c'è stato un attimo questa settimana in conferenza nel coffee break c'è stato un paio di sessioni dove facciamo vedere cose un po' complesse un po' di metaprogrammazione un po' di come dire scrivere codice risparmiando e c'è qualcuno che ha detto ma voi fate queste cose ma poi le usate anche c'è proprio lo scetticismo totale perché delfi è così semplice che lo usa anche magari chi non è proprio uno sviluppatore ma un po' lo diventa nel senso che ha bisogno magari di una soluzione verticalizzata non paga uno sviluppatore ma barcamenandosi tra componenti mettendo assieme un po' di cose riesce a tirare fuori il prodotto quindi alla fine come dire si è sviluppatore che lo sviluppatore magari divide le cose un po' meglio conosce i pattern conosce queste cose magari chi ha visto anche altri linguaggi però non è obbligatorio quindi delfi se tu trascini la tua tabella la colleghi tiri sulla griglia e hai fatto la tua dashboard se uno è sufficiente uno si può fare il proprio il proprio gestionale interno e puoi utilizzarlo anche se uno non è sviluppatore nel senso che non ha il diploma da sviluppatore che non c'è magari quindi per cui oh bella questa cosa is loading adesso la provo subito perché questo è abbastanza frequente ah bello mantiene anche lo stile quindi quando devo fare dei caricamenti potrei metterlo in questo modo small medium quindi così che viene un po' più grande ma è bitmap e vettoriale non sembra che sgrani però quindi forse forse è vettoriale sembra sempre perfetto quindi mi ricordo che già la versione 1 si interfacciava con c'è quella che non piacere sì perché tra l'altro il tool il nome Delphi deriva dal fatto che parlava con l'oracolo ovvero con Oracle e quindi quello è l'origine del nome Delphi a suo tempo poi così è rimasto così è sempre stato storicamente quindi l'accesso ai database era già una prorogativa c'era già il BDA i componenti cioè roba che da altre parti non ancora non c'erano quindi sono tra l'altro dovrebbero essere i 40 anni del Pascal festeggiato e in Delphi dovrebbe esserci un un easter egg che non so se adesso si trova modo di farlo partire in qualche live farò vedere con l'elenco di quelli che lavorano ovviamente l'ambiente di sviluppo e poi delle schermate delle riviste che parlavano di Pascal un po' di tempo fa quindi questo si può anche combinare quindi is outlined ok lo fa solo non riempito loading e poi c'è disabled cioè questa è una classe oppure scritto così perché ah beh c'è l'esempio di fianco bastava guardare ok disabled e quindi as a result si possono combinare quindi se lo metti danger outlined e large diventa rosso bianco all'interno a meno che non ci clicchi è anche grande quindi button is info is loading quindi non si clicca ed è fondamentalmente bloccato ed è blu perché è quella parte di info primary ha il colore di bulma ok modularity importa solo quello che ti serve quindi in realtà quello che noi dovremmo che stiamo utilizzando dovrebbe essere un insieme di tanti css che finiscono tutti in uno però volendo si possono quindi dovrebbe essere l'equivalente di questo all ovviamente processato per avere css perché il sas dinamico ci vuole qualcosa che lo trasformi in un css quindi qui dentro c'è tutto però ci sono file separati da cui si può importare solo quello che serve noi dovremmo avere tutto quindi se copio ad esempio questo columns qui di fianco ci metto un altro hr così vediamo cosa ci salta fuori 1 2 3 4 5 quindi ha diviso la pagina per colonne ma quindi se metto anche qui is info mi diventa tutto blu o col testo di colore blu no si applica solo ovviamente a quello che serve questo è abbastanza comodo perché per incolonare roba diciamo c'è un riquadro con le colonne colonna 1 2 3 4 5 e lui ce l'ha formata già 1 2 3 4 ci mette già quindi se abbiamo qui dentro del testo che va lungo è come una tabella già formata però in maniera moderna quindi interessante da questo punto di vista quindi quindi allora chiaro quindi questo è per fare il layout suppongo se vogliamo solo i pulsanti possiamo usare includere solo quella parte e poi usare le classi dei pulsanti is inverted is linked is loading is large ce ne sono poi bisogna andare a vedere la documentazione però sì questi li ho già provati quindi sono già a posto è chiaro quindi bulma è un mobile first framework quindi ogni elemento in bulma è mobile first quindi prima il mobile e poi è ottimizzato per la lettura in verticale classica dei telefoni che sono diversi ovviamente dagli schemi del computer come questo quindi on mobile le colonne sono messe impilate verticalmente il level component will show children stacked vertically the nav menu will be hidden ok ah ok il level component che non ho ancora visto non so cos'è penso che me lo spiegherà quindi vuol dire che se io prendo questa pagina vado qui inizio a ridurla e mi finiranno una sotto all'altra infatti è così quindi sono incolonate verticalmente a meno che non ci sia abbastanza spazio per visualizzarle tutte they have for both column levels depending the is mobile modified is mobile va dopo poi questo me lo farà vedere quindi bulma ha 4 breakpoint ok i breakpoint immagino se è responsive infatti si è responsive anche qui se stringiamo qua sotto questa griglia dovrebbe ah vabbè che si in realtà no taglia di là quindi non è non è tagliata ci sono 4 breakpoint i breakpoint non sono quelli a cui siamo abituati da programmatori ma in CSS sono praticamente quelle dimensioni che fanno da punto di rottura ovvero mentre io scorro quando la pagina si vede che cambia drasticamente qui ad esempio a un certo punto vedo che c'è il libro però qualcosa è scomparso secondo me ovvero là in alto è scomparso qualcosa ed è diventato le icone sono diventate piccole questo è un breakpoint cioè praticamente c'è una dimensione che fa da punto di rottura breakpoint appunto tra un layout e un altro quindi perché responsive non vuol dire che è fluido alcuni sono anche fluidi però non è che il sito si riadatta ma nel momento in cui stringo un po' mi segue a un certo punto cambia completamente il layout e quello è il breakpoint qui ad esempio sparirà esatto il menu che diventa qui quindi il passaggio da qui dove c'è il menu e la sidebar che sono nascoste perché non c'è posto al momento in cui si vedono qui c'è il breakpoint quindi qui ce ne sono quattro fatti a 1408 1216 questo è sempre la larghezza dello schermo vuol dire che se io associo qualcosa con lo stile mobile quando arrivo a 769 pixel vedo questi e questi ma non vedo il desktop ma a mano che allargo vedo via via tutti gli elementi quindi questo lo vedo fino a 768 poi non lo vedo full hd tablet desktop quindi qui se io inizio a stringere qualcosa dovrebbe scomparire annetto che in realtà me lo sta visualizzando sotto quindi tablet only desktop only bisognerebbe vedere se questo è stato reso responsivo oppure no perché mi sembra diventa panino sì il famoso hamburger menu come propriamente detto quindi disabilitazione breakpoint non vedo perché dovrei disabilitarli ah le widescreen full hd sono abilitati però possono essere disabilitati chiaramente questo se uno va a rigenerarsi il file css quindi noi che lo usiamo ce li abbiamo e basta ok colors abbiamo most elements have color variation quindi primary is dark oppure is color grazie alla color sasmap per cui bulma fa un ciclo e prende tutti i colori e la loro parte invertita quindi io potrei fare qualcosa di bianco e qualcosa di bianco invertito cioè nero senza dirgli che però è nero per avere tutti i colori quindi questa roba la potrei mettere anche su un pulsante qualunque cioè potrei dire prendo un pulsante lo faccio is trattino dark però qui c'è un value is primary o is dark ok quindi le variabili sono per la customizzazione se io qui provo a scrivere is dark è diventato effettivamente blu primary link success warning ok il success infatti viene verde giusto si e poi ci sono tutti gli altri ci sono anche quelli grey dark e grey light ok fatti in questo modo is grey light questo mi sa che non ha funzionato eeeh strange strange a meno che non fai provare questo a parte che con l'isloading non è detto che funzioni mi sembra che non stia funzionando non c'è neanche un esempio non è che forse non ci vuole is o no forse questo è una è un qualcosa che manca però diciamo che questo lo stilizzerei col foglio di stile altrimenti concetti allora i customisable tank to quindi si può customizzare sia in fase di generazione andando a cambiare delle variabili che poi vengono riverberate su tutto lo stile oppure default flag ammettono c'è la promozione col default quindi per customizzare Bulma devi installarlo col sasclay ok questa è una parte che mi interessa ma molto relativamente perché comunque il default mi va bene mi va bene anche fare such a slide such a stack orange invert almeno che non abbia installato una versione quinto veramente troppo stanco dormo troppo poco sì volendolo provare con c'è con sì jss con node chiaramente c'è il package ci sono molte più possibilità perché abbiamo un webpack quindi quindi il giro è finito overview colors cioè non c'è nient'altro utilities mixin forse sono un po' complicati ma create down facing arrow decoro parameter bulma arrow mixin c'è c'è questa roba funziona già così ci provo a vedere che diavolo succede fuori include arrow purple ah questo è l'esempio scusa del questo è l'arrow purple quindi sapranno qualcosa gli app con questo stile tipo uno spanno così lui mi fa mi fa quella cosa lì vediamo lo metto all'inizio così lo vedo bene non si vede nulla caro unknown rule qui ci manca qualcosa forse manca la variabile del colore se scrivo dark non fa nulla quindi funziona probabilmente solo con i package con qui bisogna center ok qui c'è tutto però andiamo a vedere un po' i basic first column second column adesso mi bevo anche qualcosa aiuto bevo 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 stasera facciamo una live un po' più breve perché sono in fase di crollo e mi hanno detto tutti anche dal vivo ti seguo sulla tv ma poi mia moglie mi dice basta con quello lì o cose di questo tipo quindi posso capire poi si fa molto tardi quindi vedremo di di abbreviare un po' la la sofferenza così magari abbiamo anche più gente che possiamo come dire andare a visitare fare un ride senza far venire la mezzanotte magari chi è abituato a guardare anche altri quindi qui sugli utility bisognerebbe tirare fuori node fare le cose con node ma volevo per il momento lasciare cose semplici sulla library qui c'è tutta la reference quindi ad esempio il column container aggiunge tante colonne quante ne vuoi ovviamente spazio permettendo e questo l'abbiamo provato prima quando abbiamo fatto colonna 1 2 3 4 e questo ok funziona poi ci parla di questi size ecco da questo punto di vista è un classico da questo punto di vista tailwind è molto tailwind CSS è molto dettagliato perché ha tutte anche lì ci sono le frazioni quindi puoi dire uno questo è il doppio questa è la metà però ci sono anche un terzo due terzi ci sono tutte le misure qui più o meno la stessa cosa mi pare di capire però è scritto in lettere quindi forse è più comodo la parte di tailwind in questo caso perché is one quarter lo leggo peggio di is trattino 1 barra 4 quindi quindi nel momento in cui dimensioniamo una colonna in questo modo le altre si dividono lo spazio che rimane quindi se ce n'è una occupa quello spazio se ne rimangono due lo spazio che rimane viene diviso in due con le altre due colonne gli altri invece seguono le proporzioni che gli abbiamo indicato infatti qui si vede che is full va fino in fondo 4 quinti quasi però a quanto pare sono sempre tre colonne quindi 4 quinti vuol dire che 4 quinti della riga li prende lui e siccome ci sono altre due colonne queste si vanno a dividere in uno spazio più piccolo quindi se ce ne fosse una occupa lo spazio rimanente tre quarti più corta due terzi tre quinti metà quindi vanno pian pianino a ridursi e il resto viene sempre fatto così solo questa dimensionata e il resto prende la dimensione che rimane quindi potremmo anche aggiungere un'altra mi aspetto che a meno che il disegno non sia finito troncato cosa che mi esatto che quando raggiungo il breakpoint poi mi vada tutto su una colonna perché non ci stanno e quindi sono tutte affiancate e a quel punto vengono una sotto l'altra cosa che andrebbe tenuta in considerazione perché ci sono altre cose ok c'è anche il column system cioè c'è anche la possibilità di dire divido una riga in 12 parti e vado a dire che questa ne occupa a 4 l'altra ne occupa 6 l'altra 2 6 più 4 più 2 12 la somma deve fare sempre 12 e a quel punto sono io che decido ogni cosa se va più larga più bassa anche prima di per sé però prima è espressa come frazione qua è fisso un dodicesimo quindi consideriamo un 12 parti is 7 ok is 1 is 2 ci sono tutte le varie declinazioni is 12 è la riga completa quindi poi si parla dell'offset ovvero lo spostamento in avanti interessante questa cosa dove si va praticamente a prendere un un riquadro alf vuol dire che sta a metà mi fa di capire puoi usare empty column per creare spazio orizzontale attorno elementi column si può usare anche l'offset ah ho capito quindi lui dimensiona in realtà con lo stile il riquadro che non si vede ma serve per creare la spaziatura e spostare in avanti il ora scusa is offset 1 quarter questo sarà il quarto di offset perché dubito che 3 quinti 1 quinto ah no questo è l'offset ok quindi è 3 quinti ed è shiftato verso destra di 1 quinto ok aiuto dovrebbe essere la di break ne approfitto per bere così mentre riguarda la pubblicità io bevo comunque qui è abbastanza simile ad altri framework del tutto analoghi quindi non ci sono delle cose particolarmente diverse rispetto a quello che si vede in altri framework anche in bootstrap ci sono gli offset c'è la griglia c'è la grid sistema grid più le proporzioni quindi responsività mobile columns quindi is mobile vuol dire che allora le colonne sono attivate dai tablet in su mi parli capire onwards quindi vuol dire che se questa dimensione del schermo grande le vedo se riduco le vedo le vedo le vedo arrivo fino al tablet quando scendo sotto la dimensione del tablet le vedo una sopra l'altra in questo caso is mobile gli sto dicendo che quel layout è adatto al mobile e quindi sul mobile non lo tocca lo lascia come infatti vedo che stringendo sempre di più non le mettono sopra l'altra ma rimangono sempre affiancate quindi sto dicendo questo layout affiancato vale per il mobile quindi questo è il quindi se vuoi avere le colonne anche sul mobile gli metti is mobile modify sul column container quindi solo sul contenitore se vuoi vedere la differenza dimensione del sono impilate praticamente subito infatti mi sembrava strano perché il tablet poi una volta che riduco così sono già nelle dimensioni di un tablet però qua si vede il passaggio dal breakpoint che fa 1 2 3 4 e poi 1 2 3 4 come colonne in questo caso is desktop ok vuol dire che deve mettere uno sotto l'altra differente colonne per breakpoint poi c'è la parte dove si aggiunge anche un margine con un offset è abbastanza completo comunque nesting columns column columns ah ok posso creare un div con delle colonne dentro una colonna un div con ulteriori colonne in questo modo potrei potrei dire ho tre colonne che fanno vedere i dati anch'essi incolonnati dove la riga è larga come la pagina quella più esterna e quella più interna è larga come lo spazio della colonna quindi è interessante da questo punto di vista blu e red tipo qui ci saranno due colonne una e una due quindi lo spazio è diviso in due immagino e dentro una column avrà fatto un altre column dove c'è una colonna una che fa da offset una seconda colonna esatto infatti c'è first needed column second nested column il margine da cosa viene dato economies mobile forse dal fatto che hanno questo non vedo il gap però potrei essere io quindi danger 50% auto auto ok il gap sarà che quando si fanno le colonne si aumenta la distanza quindi no gapless senza gap sono tutte attaccate altrimenti con il default lasciano un po' di spazio tra una colonna e l'altra ovviamente più stringo più stringo più stringo si avvicinano sotto si si attaccano e si schiacciano qui ovviamente diventano qualcosa di diverso perché non si vede più senza gap perché si è andato qui non lo so ok allora tutto sommato non è così complesso qui hanno tolto anche il gap proprio colonne gapless quindi sono tutte attaccate multi rig per farlo andare a capo is mobile per non fargli cambiare il layout quando lo guardiamo anche sul mobile e si un po' si vede però molto molto impercettibile diciamo il gap variabili qui ci sono i gap relativi ok c'è 20 modi di impostare il gap più o meno una carrellata l'abbiamo fatta anche se siamo persi un po' in chiacchiere ma ci sta poi alla fine nel live sembra questo multiline multiline qual è la differenza rispetto you can close colon container e start a new one ok oppure usare il multiline modifier e aggiungere più colonne che finiranno nella stessa riga is multiline quindi questo che diavolo fa che io faccio sempre fatica a capire è un multiliga mi sembra che faccia tutto correttamente quindi ok centered è una cosa giusta perché qui ce le ho tutte non non centrate ad esempio questi 1 2 3 4 non sono centrati come mai non va di fianco c'è stato messo unismo vai da qualche parte no ah perché c'è il font molto grande ok is centered forse va su con section no dove va con is mobile is centered pare che non funzioni così come mai come mai qui ci dovrò ci dovrò dare un'occhiata niente adesso ve lo studierò un pochino separata sede però diciamo che è una buona in sintesi sottorno qui è una buona alternativa a un css più più pieno quindi già che aiuta magari di più che però si prende anche molto più libertà perché magari fa dei pulsanti consumatore fa dei pulsanti cioè per gli stili vale la regola che più cose vengono aggiunte poi togliere è difficile si può scavalcare però in certi casi non è possibile fare fare tutto a seconda di com'è il codice che ci arriva quindi meglio partire da qualcosa di presente che dia un aiuto ma che sia minimale e poi andarsela a formatare in qualche modo adesso me lo studiano un pochino poi magari lotteremo buono per un'applicazione web che mi piacerebbe fare come side project nelle live perché vedo che molti di quelli che fanno coding fanno live anche un po' più lunghe dove portano avanti dei progetti mentre qualcuno si collega parlano e quindi come dire avere compagnia mentre si sviluppa ma nel frattempo si sviluppa quindi in quel caso è un po' come dire programmiamo assieme ma non è così frontale ma sono concentrato fondamentalmente sul codice quindi potrebbe essere una cosa interessante sono tutte le cose che sto preparando per propositi del nuovo anno per pensare a qualcosa da portare in live che possa essere interessante c'è qualcuno che stream nell'universo di twitch in particolare software software programmazione quasi mai sviluppo software dei giochi un altro c'è che ah skimpy new buy che ancora qui non si sta sistema di commenti custom ok direi che l'ho scelto perché in questo caso so che a volte gioca però va anche fa anche come dire sviluppo quindi nessun altro ci sono un sacco di gente collegata giovedì qui cambierò anche la giornata di streaming perché sta facendo android UI elements secondo me c'è un react ok quindi andiamo a trovarlo niente stasera mi hanno fatto più chiacchiere che altro ma ci stava perché un po' che non streamavo più ringrazio quelli che sono ritornati few bit vision nuovi follower non mi ricordo il nome perché è scappato e quindi boombasox ok che è andato a vedere un filmato è partito per la tangente è andato a vedere il filmato di programmazione quindi niente vi do un buon weekend visto che siamo praticamente a venerdì grazie come sempre per seguire le live adesso riprenderemo un po' il giro poi l'anno nuovo vedremo qualche novità dai proveremo a fare qualcosa di nuovo comunque la prossima settimana non mi ricordo forse è mercoledì c'è un webinar quindi forse potrei non esserci ma metterò qui sul canale telegram i riferimenti che è un canale solo di aggiornamenti quindi solo di post legati a faccio la live quindi c'è un post a settimana a volte neanche quello se non la faccio o c'è scritto che non la faccio quindi come dire ci sta niente di nuovo grazie c'è il canale per stare aggiornati la home page i vari i social come dice il il talk il mitico talk che ogni tanto segue gioco con lui a party animals il mitico gioco dove gli animali pucciosi si prendono a schiaffi e i giocatori bestemmiano come dei turchi però è molto divertente magari non guarderà mai le mie live ma lo saluto perché il gioco è il programma quindi niente rimanete per il ride che andiamo a trovare un altro sviluppatore che di solito fa cose su php wordpress che me la sentassino non piace molto di php però ammetto che quando ho visto il codice che aveva scritto in un paio di occasioni forse usava l'aravello così bello ordinato bello allora non è il linguaggio è proprio lo sviluppatore che fa come dire la differenza poi comunque l'avevamo già visitato ma è un po' che non ci andiamo quindi preparo il ride intanto torno a mettere anche un po' di musica grazie di nuovo buon weekend buona programmazione buon riposo buon tutto e ci rivediamo alla prossima live quindi rimanete per il ride e grazie a tutti della presenza come sempre non si vede grazie ciao alla prossima ciao